Consiglio Comunale Premesso che nella giornata del 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco visto altresì che l'articolo 9 ter dello Statuto prescrive che nella prima seduta il Consiglio Comunale provvede all'elezione del suo Presidente e del Vicepresidente e che detta elezione abbia luogo con votazione separata e con voto valese tutto ciò premesso si deve procedere ora alla individuazione del Presidente del Consiglio Comunale e del Vicepresidente Il gruppo di maggioranza individua nell'Avvocato Antonio Artusi il Presidente del Consiglio Comunale Chiede la parola il Consigliere Luca Belmonte Il gruppo consigliare Forza San Marco propone per la carica di Vicepresidente Comunale il Consigliere Cristian Tricanico Si vota per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale individuato nella figura dell'Avvocato Antonio Artusi All'unanimità Si vota per l'individuazione della figura del Vicepresidente del Consiglio Comunale individuato nella persona del Consigliere Cristian Tricanico Si vota Si vota per l'immediata esecutività dopodiché io lascio il mio posto all'Avvocato Artusi Grazie